E' il rapporto tra gli oggetti e i propri simboli costitutivi, tra la cosa e la sua ombra, tra la rappresentazione di suoi elementi, il filo che ci guida attraverso le opere di Marta Colombo. Il simbolo, con la sua forza espressiva, con la sua metafora del dire insieme, viene esplorato dall'artista in differenti maniere. A volte si lascia trasportare dall'espressività calligrafica della lettera alfabetica e ricordiamo che l'alfabeto introduce ad una doppia metafora, da un lato la metafora della parola che definisce l'oggetto, dall'altra l'astrazione che fa corrispondere ad una determinata forma calligrafica quel determinato concetto. Altre volte è l'ombra che l'oggetto traccia a divenire simbolo, giocando con le dimensioni, la sfumatura dei contorni, la luce. Oppure è il rapporto che si instaura tra oggetto tridimensionale e linee e caratteri bidimensionali ad essere indagato, alla ricerca degli elementi costitutivi. In tutti i casi, la cura formale che l'artista pone nella realizzazione delle proprie opere non risulta mai fine a se stessa, ma è sempre destinata a porci domande e a lasciar vagare il nostro pensiero verso quell'altro da sé cui il simbolo sempre, necessariamente, immancabilmente, costitutivamente rimanda.